Un uomo armato ha sparato contro i passeggeri di un treno ad Atlanta, in Georgia, uccidendo una persona e ferendone tre. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine dopo essere sceso dal treno. I feriti due uomini e una donna non sarebbero in pericolo di vita. Non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione.